Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli A voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici Fate del bene a coloro che vi odiano Benedite coloro che vi maledicono Pregate per coloro che vi maltrattano A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l'altra A chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica Dà a chiunque ti chiede E a chi prende del tuo, non richiederlo Ciò che volete che gli uomini facciano a voi Anche voi fatelo a loro Se amate quelli che vi amano Che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene Che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso E se prestate a coloro da cui sperate ricevere Che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori Per riceverne altrettanto Amate invece i vostri nemici Fate del bene E prestate senza sperarne nulla E il vostro premio sarà grande E sarete figli dell'Altissimo Perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi Siate misericordiosi Com'è misericordioso il Padre vostro Non giudicate E non sarete giudicati Non condannate E non sarete condannati Perdonate E vi sarà perdonato Date E vi sarà dato Una buona misura Pigiata Scossa e traboccante Vi sarà versata nel grembo Perché con la misura con cui misurate Sarà misurato a voi in cambio Pace e bene Carissimi amici Ben ritrovati al nostro appuntamento settimanale Con la parola della domenica La liturgia nella settima domenica del tempo ordinario Del ciclo festivo C Ci fa accogliere nella parola misericordia Potremmo dire la sintesi del nostro cammino di fede Siamo oggetti della misericordia di Dio Ma anche chiamati ad essere noi stessi dispensatori Testimoni di questa misericordia Già la prima lettura Tratta dal primo libro di Samuele Ci presenterà una storia di misericordia Di pietà esercitata da Davide Verso il re Saul Non ucciderlo Disse Davide ad Abisai Chi mai ha messo la mano sul consacrato del Signore Ed è rimasto impunito Un gesto d'amore Espresso attraverso un atto di misericordia e di perdono Il Vangelo che ascolteremo riprenderà questo tema E attraverso l'insegnamento di Gesù Ci viene presentato il modo di agire del vero cristiano E ancora Ecco che Gesù conclude il suo discorso con un invito Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso Non giudicate e non sarete giudicati Non condannate e non sarete condannati Perdonate e sarete perdonati Date e vi sarà dato La parola di Dio oggi allora ci invita ad abbracciare la logica del Vangelo Una logica per certi versi paradossale Che si fonda però sull'amore, sul perdono, sulla misericordia La logica del Vangelo non è banale Scontata Se amate quelli che vi amano Quale gratitudine vi è dovuta? Dice ancora Gesù Anche i peccatori fanno lo stesso E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi Quale gratitudine vi è dovuta? È troppo semplice e facile Contraccambiare con la stessa moneta Non ci sarebbe nulla di straordinario nel nostro comportamento Di questo sono capaci tutti Anche coloro che vivono lontano dalla fede A questo approccio di relazione sono capaci di arrivarci tutti Gesù invece ci dice Fra voi non sia così Gesù allora ci indica La strada per vivere l'esperienza del vero amore E ci dice che appunto la strada è un'altra È quella che ci indica lui con il suo esempio Con il suo insegnamento Se la misericordia è la regola d'oro Su cui si basa la relazione fra Dio e l'uomo La stessa misericordia deve regolare i rapporti umani Le nostre relazioni quotidiane Se accogliamo e pratichiamo questa norma Questa regola Saremo giudicati dall'amore con l'amore Perché come conclude Gesù nel Vangelo Con la misura con la quale misurate Sarà misurato a voi in cambio Chi ha orecchie per intendere Intenda Pace e bene E buona domenica a tutti Saremo giudicati